Buongiorno, siamo a Cremona Musica, siamo nello stand di Michele Dobner e Jung Gavang. È un piacere essere di nuovo qui alla fiera, dopo un po' di anni diciamo che avevo disertato l'appuntamento. Io sono un liutaio che è qua a Cremona ormai da più di vent'anni e ho deciso quest'anno di condividere lo stand con mio collega Jung Gavang, che è stato il vincitore della scorsa edizione della triennale col violoncello. Per cui abbiamo esposto due violoncelli, tutti e due di nuova costruzione, uno lui e uno io. E come mai questo ritorno allora a Cremona Musica? Perché ho visto che comunque c'è sempre un discorso di attrazione da parte di molti musicisti, anche i miei clienti che ho comunque nel giro diciamo italiano e secondo me è una buona cosa comunque essere sempre presenti con prodotti che negli anni comunque progrediscono anche come livello di qualità e di conseguenza fare notare anche questi cambi ai propri clienti. Certo, ci puoi far vedere qualche esempio della sua... Questo per esempio è uno strumento che ho finito da un mesetto o due e praticamente è uno strumento che ha questa particolarità di avere la decorazione sulle fasce e anche sulla parte del riccio. È una decorazione molto classica, fatta ovviamente tutto diciamo fatto in contemporaneo, però si rifà a un modello di decorazione che era stato fatto da Stradivari ai tempi quando lui ha costruito il quintetto spagnolo che adesso è diventato un quartetto ma che si trova a Madrid. L'unico esempio di questa decorazione si trova al Palazzo Reale di Madrid e c'è questo strumento di Stradivari che è l'unico rimasto con questa decorazione. Non c'è la parte di decorazione del doppio filetto perché è un lavoro veramente molto complicato anche se sarebbe interessante magari in futuro farlo, però per ora è stato decorato in questa posizione diciamo, per cui fasce e la parte del riccio è stato decorato sia al fianco del riccio che è la parte del dorso che poi ovviamente continua sulla parte anteriore. Ecco, questa è un po' la lavorazione di questo strumento, questa è la particolarità di questo pezzo. Ovviamente non è una cosa che si fa su tutti gli strumenti che uno costruisce, però magari si fa per un particolare cliente che lo richiede. Che cos'è Cremona Musica? È un'opportunità mondiale di poter far vedere il proprio lavoro anche su mercati che non sono solo quelli orientali ma anche americani, australiani, magari anche di altri paesi che normalmente difficilmente possono venire durante l'anno per cui in quel momento dell'anno c'è questa possibilità.